Consideriamo doverosi quegli indennezi e penso che lo abbia dimostrato l'avvenuto aumento che lei cita tra l'altro nell'interrogazione, la ringrazio per questo, nel 2023 del fondo che era stato istituito a questo scopo nel 2022 e quindi non può esserci da parte del governo un intento dilatorio ostruzionistico perché non avrebbe senso decidere di spendere di distanziare delle risorse e poi impedire che quelle risorse vengano spese. Quindi noi abbiamo già dato un'indicazione chiara che io ribadisco anche...